15 associazioni abruzzesi contestano l'utilità del gasdotto Linea Adriatica che comprende il metanodotto Sulmona-Foligno e la centrale di compressione di Sulmona, denunciando numeri alla mano la sovraccapacità sul piano degli approvvigionamenti e il rischio che i costi vengano scaricati sulle bollette destinate ai cittadini. I rilievi compiuti dagli associazioni sono confluiti in un dossier inviato all'autorità dell'energia, illustrato questa mattina nel corso di un'apposita conferenza stampa che si è tenuta a Pescara. Questa nuova opera non serve assolutamente. La SNAM sostiene che è necessaria fare la linea adriatica per portare più gas all'Italia perché mancherebbe il gas. Questo non è assolutamente vero perché in un anno abbiamo avuto un calo di 8 miliardi di metri cubi di consumi, passando da 76 a 68 e quindi non serve. Ieri hanno fatto questo accordo con l'Algeria, vogliono riempire il nostro paese di gas, cioè parlano di un piano Mattei ma ci vogliono riportare indietro di 70 anni perché non siamo agli albori della metanizzazione. Secondo le associazioni è concreto il rischio che alla fine i costi siano scaricati sui consumatori. 2 miliardi e 400 milioni che è il costo dell'opera dovrebbero essere pagate dai cittadini italiani per un'opera totalmente inutile. Per questo la Rera ha imposto la consultazione alla SNAM proprio per capire se questa opera è necessaria o no. Noi con un documento di 25 pagine molto preciso e dettagliato abbiamo smontato punto per punto la narrazione della SNAM secondo cui quest'opera è necessaria. L'opera è totalmente inutile ed è anche un costo che inutilmente verrebbe aggravare in bolletta per 40-50 anni sui cittadini italiani perché questa è la durata di questi impianti. Le associazioni esortano quindi il governo ad abbandonare la strada del fossile e a percorrere con convinzione quella delle fonti rinnovabili sia per questioni di sostenibilità ambientale che per ragioni di geopolitica. Dobbiamo abbandonare il gas per tanti motivi. Il primo è che andiamo ormai con il riscaldamento climatico verso il disastro mondiale e vogliono continuare a consumare gas che è molto più climaalterante rispetto alla CO2, 80 volte di più. Oggi le rinnovabili sono già molto più competitive rispetto alle ponti fossili. Se l'Italia si vuole rendere indipendente c'è solo una strada da percorrere, quella delle energie rinnovabili. Noi siamo il paese del sole, dobbiamo sviluppare le energie eolica, l'energia solare. Queste sono le energie del futuro, ma dell'immediato futuro. Se noi anziché essere dipendenti dal gas russo, diventiamo dipendenti dal gas algerino e dal gas dell'Arzebagian, come ha detto Mario Tozzi, è come se un drogato cambia spacciatore, ma sempre drogato è. Quindi dobbiamo uscire dalla droga del gas fossile. Quindi dobbiamo uscire dalla droga del gas. Grazie. Grazie.